Bentornati su MyFootballJersey. Ecco a voi la seconda maglia della Juventus per la stagione nuova da 2023-2024, in edizione Player. Ecco a tutti i nostri spettatori. La maglia molto particolare richiama i colori tradizionali della Juventus e secondo me è molto bella. Qui in alto vedete il costo, più bello di questo non c'è niente. Vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia qua sotto in descrizione. Andate a vedere quali splendide sorprese il sito prepara per voi. Prima di lasciarvi alla parte finale, se il video vi piace, se volete avere sempre nuove recensioni, Mi raccomando, iscrivetevi. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player.